ma non lo so 8 e 17 si dai prendiamo l'8 e 17 questo va sempre a 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 visto che qualcuno è interessato dalle mie spiegazioni nelle escursioni sota per quanto riguarda la geologia qui siamo in direzione monte barigazzo italia eco romio 310 310 allora la cosa interessante del monte barigazzo è che nella parte basale abbiamo delle argille nella parte sommitale come poi vedremo abbiamo delle arenarie stratificate le argille queste argille qui pari colori sono di ambiente di mare profondo le arenarie stratificate sono torbiditi quindi sono sedimentazione avvenuta più vicino alla costa quindi il bacino si è alzato le argille vari colori queste qua erano si sono formate nel momento in cui si stava aprendo un bacino che doveva diventare un oceano poi abortito siamo in Italia qualcosa si allarga poi si chiude la cosa interessante se uno avesse pazienza e che qui come fossili si trovano denti di squalo lo squalo non ha uno scheletro osseo cartilagine quindi lo scheletro si perde restano soli denti e quindi è facile trovare denti di squalo in questi sedimenti sopra abbiamo arenarie stratificate e torbiditi vuol dire che è avvenuto una sedimentazione in modo molto energico quindi il bacino si è chiuso si è alzato era la sedimentazione avvenuta molto vicino alla costa e queste piene dei fiumi di frane eccetera hanno fatto questi strati di arenarie poi adesso salendo li vediamo cazzo che caldo c'è da morire speriamo la prossima settimana giuro che sto pezzo qua a Italia chi lo ecco mi sarebbe piaciuto tanto farglielo fare vabbè sarà per la prossima volta auguri che la cazzimma si accumula quella è la vetta il monte bariazzo ci siamo quasi in cima l'immensa pianura padana piena di mangianebbia e di qua l'appennino tosco l'igo remigliano adesso un attimo che mi riprendi sicu sota sicu sota sicu sota italy zulu for victor che bexerra portable qrp sicu sota ok italia whisky zero hotel lima eco 59 qsl roger roger vinco quasi sempre con poco che ti prega qui Gianni ragazzino ti ascolto molto bene e con i 5 watt complimenti sempre per le attività e a risentirci qsl qsl ti ringrazio 73 e buon buon fine settimana ciao roger roger ontario milano 1 ancona xilofono 59 qsl ciao 73 god weekend bye bye play stand by eco alfa 2 delta tango eco alfa 2 delta tango over roger 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 my friend foxtrot 4 whisky bravo november 5 9 qsl roger roger good afternoon thanks i 59 also 59 thanks for the contact thank you thank you thank you thank you thank you thank you to you my friend bye bye 73 ciao grazie hotel bravo nine over roger roger hotel bravo nine delta hotel alfa 5 9 qsl roger roger hotel bravo 9 delta delta hotel alfa 5 9 thank you my friend bye bye 73 e roger italia zelanda 1 avanti roger golf delta bravo dammi roger 5 9 per te qsl ciao 73 scusami ti chiedo conferma perché c'ho la penna che non scrive quindi vado tutti in video ciao 73 roger hotel bravo 9 roger hotel bravo 9 charlie over roger roger my friend hotel bravo 9 charlie golf alfa your report is a 59 plus plus thank you my friend a good weekend back to you thank you roger sierra 5 7 india lima foxtrot 5 9 qsl good afternoon you come in 5 by 5 5 5 5 5 thank you bye bye thank you to you my friend bye bye 73 oh roger my friend good afternoon delta delta 0 over delta 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 0 over delta 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 0 victor echo 5 9 your report thank you good afternoon and good weekend bye bye over summit to summit summit to summit back roger delta lima e delta bravo november portable 59 qsl ok thank you for 5 and 9 thank you for 5 and 9 you are 5 and 6 5 and 6 and my summit reference is delta 9 so norway with 263 roger roger my friend my reference italy echo romeo 310 qsl bye 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 roger e italia chilo 1 golf e papagolf 59 più più qsl ciao 73 avanti hotel bravo 9 roger roger hotel bravo 9 messico kilowatt vittoria 59 59 più qsl roger roger eco alfa 2 charlie kilowatt x ray roger 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 messico in the call over roger oscar messico five delta papa five nine a qsl 73 my friend a good weekend bye bye thank you echo x-ray in the call please echo alpha three echo victor lima five nine echo alpha three echo victor lima five nine qsl thank you to you my friend bye bye 73 x-ray in the call please over sierra delta eco sierra delta eco complete your call thank you over summit to summit thank you hotel bravo nine hotel bravo nine complete your call thank you hotel bravo nine charlie victor question mark roger roger charlie yankee victoria foxtrot stroke hotel bravo nine charlie yankee victoria roger roger my friend my reference otta italy echo romeo 3 1 0 qsl ciao 73 buon weekend a good weekend bye bye roger hb 9 alfa golf hotel qsl roger 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 ambrogio guarda il tuo rapporto 5 8 5 9 5 8 5 9 qsl c'è l'ora ciao 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 73 go to the weekend bye bye ciao 73 go to the weekend bye 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 roger 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 e buon pomeriggio florida 5 japan chilo chilo 5 9 qsl ok italia 0 lima yankee oscar la referenza è italia eco romeo 310 qsl italia eco romeo italia emilia romagna 310 monte barigazzo qsl ciao 73 molto molto qrm scusami ciao o avanti la stazione qrp e c'è del coraggio in mezzo a questo qrm avanti pure allora ripeto il tuo call uniforme x-ray alfa uniforme x-ray alfa qsl ok ah beh se sei da soragna veramente siamo a un tiro di tiro di sasso e se tiro una giaronata dal barigazzo quasi ti arrivi in testa hi a te il cambio ti ringrazio 5859 per te 5859 complimenti per il watt ciao 73 buon fine settimana certamente italia zulu 4 victor kebex r italia zulu 4 vinco quasi sempre quasi che mi frega del cambio ciao 73 qr z florida alfa over florida alfa over 9 america 6 9 america 6 9 america 6 complete your call thank you roger 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 alfa kilo delta alfa kilo delta thank you my friend your report is a five eight five eight qsl 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 my friend my reference italy ecco romeo 3 1 0 italy ecco romeo 3 1 0 qsl bye 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 my friend 73 thank you allora io ho copiato un italia tango 9 se mi completi il call grazie roger 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 alfa 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 chilo alfa alfa chilo qsl roger roger ti ringrazio te per la pazienza grazie ancora buon fine settimana ciao vi ringrazio signori 73 ai colleghi oms w l ciao ancora e buon fine settimana ciao 73 ciao stefano ciao